In questo video parleremo delle prostatite. La prostatite è una condizione di infiammazione o di infezione della prostata che al pari delle cistiti nella donna è una delle condizioni più comuni a livello maschile. Teniamo conto che mediamente un uomo soffre dalle 50 alle 100 prostatite nell'arco della vita. È pur vero che le prostatite in tante occasioni sono dovute ad esempio a condizioni patologiche come rapporti sessuali a rischio piuttosto che a manovre ospedaliere come ad esempio il posizionamento di catetri vescicali. Tuttavia nella maggior parte dei pazienti, in particolare nel giovane paziente diciamo tra i 18 e i 45 anni, molte delle prostatite sono dovute a tutta una serie di comportamenti sbagliati nella quotidianità, in particolare ai disturbi gastrointestinali. Il più moderno approccio ad oggi alla prostatite è quella di confrontarsi con l'esperto nutrizionista al fine di andare a riequilibrare anche la flora intestinale, in quanto ormai c'è enorme letteratura che conferma il fatto che una dismiosi intestinale, vale a dire una maldigestione, può provocare una infezione in taluni pazienti o una infiammazione in altri pazienti della prostata, che purtroppo sono estremamente difficili da eradicare e in media i medici tendono a curare questi pazienti con antinfiammatori e antibiotici che è pur vero che sono efficaci nel sintomo acuto, ma poi a lungo termine per prevenire il ritorno della prostatite o comunque per andare a riformare ovviamente tutto il sistema urogenitale e gastrointestinale è necessario che ci sia un esperto o gastroenterologo che si ovviamente intende anche di nutrizione o un nutrizionista che dà delle indicazioni. È bene quindi rivolgersi all'urologo per andare a fare un primo inquadramento e andare a distinguere tra prostatite infiammatoria e prostatite batterica, vedere se non ci sono delle condizioni ovviamente collaterali come ad esempio l'ipertrofia prostatica e poi in caso ci sia una prostatite infiammatoria con contestuale dismiosi intestinale è giusto inviare da un esperto naturopoda. È mio piacere introdurre il dottor Milani che è un esperto in questa materia e che ci darà una visione di quelle che sono le condizioni e le raccomandazioni. In generale la prostata è sensibile a determinati cibi, cibi piccanti, insaccati, tè, caffè, frutta secca e logicamente anche la sedentarietà dà un aggravamento dell'eventuale sintomo da prostatite. Tuttavia queste sono raccomandazioni generiche per una raccomandazione più efficace parliamo appunto con il dottor Milani. Ringrazio il dottor Andrea Cocci che è uno splendido collega e un amico ma più che altro per la sua visione complementare. Perché cito questa parola complementare? Perché nel futuro ci sarà sempre più questa visione della medicina complementare. Noi in Italia ci stiamo arrivando e per esempio all'estero in Svizzera ci sono già molte equip e multidisciplinari che trattano la medicina da un punto di vista complementare in cui il medico, in questo caso abbiamo fatto un'introduzione con il dottor Andrea Cocci, è il punto di riferimento. Fa la diagnosi, lavora sulla strategia da intraprendere ma lavora in equip. Perché lavora in equip? Perché ormai nel mondo soprattutto della medicina regolatoria, sistemica, naturale, il mondo naturale e il mondo medico tradizionale, convenzionale come vogliamo chiamarlo, devono lavorare in equip. Quest'equip multidisciplinari in cui viene trattato il sintomo ma poi si lavora sul cronico. Non mi piace mai dividere il mondo naturale dal mondo medico perché sono due visioni che poi non aiutano la persona, perché la persona va sempre valutata a 360 gradi. Oggi abbiamo parlato di prostata con il dottor Andrea Cocci, è impossibile impostare un lavoro, una strategia di guarigione o di cura sulla prostata escludendo l'intestino, escludendo l'alimentazione. Perché questo? Perché ormai sempre più studi confermano quanto l'infiammazione cronica sia centrale e per lavorare sull'infiammazione cronica è fondamentale un lavoro sull'intestino. Cosa vuol dire questo? Lavorare con l'alimentazione. Per anni siamo stati abituati alle diete dei no, alle diete restrittive. Un lavoro per lavorare sull'infiammazione è un lavoro che si basa su un'alimentazione ipo-infiammatoria. È un'alimentazione che non va più a guardare solo l'alimento da escludere, che va sempre bene, ma va a lavorare sul 360 gradi. Cosa vuol dire? Lavorare sulla qualità. Fra un alimento e quell'altro c'è un mondo di differenza. Quello che sta portando molte disfunzioni a livello intestinale, che poi si guarderà anche quali sono le problematiche, che poi si riscontrano sulla prostata, sono l'alimentazione moderna, l'alimentazione raffinata, l'alimentazione industriale. Perciò non bisogna solo guardare il singolo alimento, la caloria, che sono ben importanti, ma bisogna andare a vedere la singola qualità e come vengono messe insieme gli alimenti. Ippocrate diceva tutte le malattie nascono nell'intestino. Nell'intestino, essendo centrale in questo, bisogna avere un'alimentazione funzionale, in cui le digestioni non si fanno la guerra, ma vanno a lavorare in compliance terapeutica. Perciò un'alimentazione sana, naturale, un ritorno ai contadini, a me piace chiamarlo, è centrale per andare a fare una strategia che abbassa l'infiammazione a livello intestinale. Perché alimenti raffinati, alimenti industriali, noi si tende sempre a vedere il glutine e il lattosio come nemici, ma non sono questi due elementi a essere dannosi. È come l'elemento è composto. Un alimento integro tiene bassa l'infiammazione, dove è presente la parte lipidica, la parte del carboidrato e la parte proteica. Gli alimenti raffinati invece tendono ad alzare l'infiammazione, ad alzare il picco glicemico e di conseguenza il carico glicemico. Questo porta un'infiammazione generalizzata, si chiamano problematiche crociate. Perciò un intestino, che poi sono mille le problematiche si creano a livello intestinale, principalmente sono le disbiosi. Ci sono disbiosi fermentative, fungine, putrefattive, una leaky gut syndrome che ha una permeabilità intestinale. Sono tutte problematiche, dopo vi farò un esempio molto chiaro per farvi capire come una problematica a livello intestinale, poi a livello crociato, va a interagire con tutto l'organismo. Stanchezza, difese immunitarie basse, mal di testa, dolori, problematiche nel sonno, tono dell'umore alterato, sono tutte problematiche che hanno una partenza, almeno un inizio, sul terreno organico, che è l'intestino. Questo perciò cosa vuol dire? Avere un'alimentazione ordinata, un'alimentazione naturale, fa rientrare queste problematiche. Va bene lavorare col sintomo, con il medico, con il farmaco, bisogna lavorare anche sulla causa. Lavorare sulla causa vuol dire avere un'alimentazione sana. Un'alimentazione sana è un ritorno all'alimento integrale, integrale però veramente verificato, all'alimentazione a basso indice infiammatorio. Vi faccio un esempio semplice. Immaginatevi l'intestino come se fosse una città medievale, in cui la fortezza sono le nostre pareti intestinali. La popolazione è la flora batterica intestinale, come in tutte le popolazioni ci sono persone migliori e persone un pochino più cattive, mettiamola così, come flora batterica buona e flora batterica cattiva. Perciò cosa vuol dire questo? Noi, la popolazione è all'interno della città medievale, le pareti intestinali sono la fortezza, i villi intestinali sono i mercanti che scambiano con l'esterno. L'esercito della città sono i malte e i galte, in questo caso specifico l'intestino sono i galte, perché la funzionalità del sistema immunitario fino all'80% è a livello intestinale. E la cavalleria sono i nostri enzimi digestivi. Questa è come funziona. Se è tutto in equilibrio c'è una sorta di omeostasi, si chiama a livello organico, perciò tutto funziona nell'intestino, perciò vengono tutelate anche le altre parti dell'organismo. Quando inizia ad essere attaccato, perciò immaginatevi l'alimentazione industriale però infiammatoria come un'invasione esterna, cosa inizia a succedere? C'è uno scontro fra sistema immunitario, perciò il nostro esercito, e l'invasione esterna, che sono alimenti che il corpo tende a non riconoscere. Da un punto di vista evoluzionistico, dal 1973 sono stati modificati tutti i cereali, perciò questo porta ad avere alimenti che il corpo deve comunque combattere perché non riconosce. Perciò cosa succede? Iniziano a crollare le fortezze, inizia a crollare tutte le nostre pareti di intestino. Quando inizia a crollare il nostro freddo centrale, che è l'intestino, cosa succede? Passano gli invasori, perciò virus, batteri, funghi, cosa succede? Che passano e vanno a colpire anche le città sottostanti. L'apparato urogenitale è una parte sottostante, perché voi immaginatevi anche a livello anatomico, l'intestino e l'apparato urogenitale sono vicini. A livello funzionale sono collegati, perciò se crolla il nostro feudo, il nostro terreno, la nostra città principale, cosa succede? Come diceva Hippocrate, tutto origine l'intestino. Se inizia a crollare questa parte, va bene rimettere soldati, perciò usare in certi casi sul sintomo un antibiotico, un antimicotico, un antinfiammatorio, però stiamo solo rimandando rinforzi, non stiamo ricostruendo la città, perciò siamo sempre, cosa si creano? Le cronicizzazioni. Se si creano le cronicizzazioni è perché questo feudo non viene mai ristabilito, perciò a livello terapeutico naturale si può usare terapie integrative al farmaco, che sono terapie naturali, che sono terapie funzionali, che ristrutturano la città. È come se una casa da ristrutturare, prima va pulita, poi va ristrutturata e poi va riarredata. Lo stesso caso è questa città. Si stimola le difese immunitarie, si aiuta tutta la pulizia, si combatte l'invasore esterno e poi con una parte probiotica, una parte prebiotica. L'alimentazione, per esempio, giapponese è specifica perché lavora sulla flora batterica intestinale, perciò ci sono alimenti come la zuppa di miso, per esempio, che va a ricreare un equilibrio a livello intestinale. Noi dobbiamo ricreare questo equilibrio all'interno. Ricreare un equilibrio all'interno lavorando in maniera sistemica, con il medico che ci ha fatto la diagnosi, con noi in parte complementare, come fosse un'equipa e si lavora sulla prevenzione primaria, che è movimento, alimentazione e terapie naturali, noi andiamo a ristrutturare il nostro intestino. Facendo una compliance terapeutica con il medico, ricreiamo un equilibrio. Questa è una strategia vincente a lungo termine, che a mio avviso, e anche sono il dottor Cocci, che su questo è molto esperto, questo è il nostro futuro.